Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi con la Ramsey Death Challenge e siamo arrivati al terzo episodio. Ok ragazzi, allora nello scorso episodio, per chi non l'avete visto o solo andasse a vedere, troverete il link sopra nelle schede oppure comunque lo potrete trovare anche nel mio canale, per chi non ci fosse visto nello scorso episodio, la partita è finita 0-0, Ramsey quindi non ha fatto kill e la formazione è rimasta invariata, ossia è sempre questa qui. Quindi vediamo se nella partita di oggi Ramsey riesce a killare qualcuno dei suoi compagni, quindi a sfoltire, smaltire un po' la rosa. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con la partita. Ok ragazzi, eccoci giunti alla partita. Abbiamo contro un giocatore italiano in quanto ha tutta la Juventus FC, quindi vediamo se Ramsey riuscirà a fare subito qualche kill, ma non è ancora dentro, vedete per Ramsey che non aggancia però, e provare il tiro fuori. Eccolo qua, ecco qua, Aaron Ramsey, attenzione ragazzi, Aaron Ramsey se ne va, guardatelo come lotta, guardatelo, poi andiamo qua da sotto per Blind, Blind dentro, Ramsey, Ramsey, trova ancora Ramsey, trova ancora Ramsey, trova ancora Ramsey, trova ancora Ramsey, no, fermo nel tiro, quasi gol di Ramsey, attenzione, Buffon deve subito intervenire sul killatore pazzo, Ramsey, guardate qui ragazzi, Ramsey, un po' che deve distendersi, grande Ramsey subito, qua, insomma va dal centro, pallone che giunge qui, ma Ramsey, ragazzi, eccolo ancora Ramsey, pallone dentro ancora per lui, Ramsey, una da fare, ancora Ramsey, Ramsey a giro, è ancora Buffon che devi intervenire, quadrato, eh sì, di barbo, Ramsey, può tirare Ramsey, pallone, devi intervenire Buffon, e non va in rete, la palla di pochissimo, guardate Aaron Ramsey ragazzi, terzo tiro nel giro di 5 minuti virtuali, quindi c'era 40 secondi reali, mamma mia Ramsey ragazzi, pallone ancora messo dentro, che rimane lì, miracolo di Buffon, che è qui, barco lì dentro, pallone per Rondon, Rondon, prova il pallone, è quello da fare, ok Ramsey, Lind, 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 dentro, Ramsey, ah, perso l'attimo giusto, va a trovare, un tiro belletario, però, scende bene la palla, e non deve intervenire, fa il tiro, vediamo dove è Ramsey, perché dobbiamo servire, invece no, c'è Rondon, al tiro, deve ancora intervenire Buffon, Ramsey non so dove va ragazzi, eccolo Ramsey, che dà l'assistente, per Rondon, guardate, per controllo di Rondon, poi il tiro dentro, miracolo ancora di Buffon ragazzi, che miracolo, che miracolo di Rondon, bellissima parata, e con questo si conclude il primo tempo, e Ramsey ancora a 0 kill, vediamo, nel secondo tempo si riuscirà a fare, almeno una kill, faccione qua, è solo, prova, è solo, e c'è, è fuori, pensavo ragazzi, fosse gol, Pereira si è divorato il gol, ancora, Ramsey deve fare da, ah, si mette, tu dà per Rondon, Rondon è solo, Rondon, Rondon tiro a gol, 1 a 0 per noi, ma non ha segnato Ramsey, quindi si è salvata, per ora, la squadra, con Rondon è segnato, e Ramsey, ha arrabbiato, con la nuova, guardate qua, è che Rondon è stata, Ramsey è andato indietro, e questo è, e quello è tutto da fare, faccione qua che, no, no, e c'è il miracolo di Emilio, è bravissimo con Dibala, ha fatto un grandissimo numero, qua ancora, prova il tiro, e c'è grandissimo gol, il pareggio bellissimo dell'avversario, ragazzi, bel gol, con Claudio Marchisio, quello qua, Aaron Ramsey, mette a sedere uno, Rondon si è fermato, però con un fallo ragazzi, quindi Ramsey fermato con un fallo, grandissimo Ramsey, ovviamente la posizione la parte qui, anche se, ho visto già dallo scorso episodio, che le posizioni non è granché, però va bene ragazzi, Ramsey, vedete, ha un tiro veramente pessimo, Barkley dentro, per Ramsey, attenzione Ramsey, che se ne va, eh, Ramsey solo, Ramsey, 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 ancora Ramsey, miracolo di buffa, poi Blind, prova il tiro, nulla da fare, allora, non donna ancora, guardatelo, non donna ancora, e qui c'è rigore, attenzione ragazzi, il calcio di rigore, quindi Ramsey può chillare, finalmente, mi sembra abbastanza incredibile, che non abbia preso, ovviamente ragazzi, cambiamo tiratore, e raccontiamo, Aro, Ramsey, può chillare, severamente, vediamo Ramsey al tiro, e c'è il gol, ed è questo era ragazzi, il gol di Ramsey, che regolita una kill, la prima kill di questo episodio, vediamo se sarà anche unica, comunque meritatissimo, perché andrà 13, se non è già più gol, Ramsey che se ne va, attenzione, Ramsey, dopo il gol si è scatenato Ramsey, Ramsey, Ramsey fermato, incredibile, Ramsey qui, bel passaggio per un gol, con il gol del 3 a 1, assist di Ramsey, assist di Ramsey, quindi non vale, per le kill, se è salvata la squadra, però Ramsey ha fatto, il gol di scuola, guardate che assist di Ramsey, e per un gol, andate a segnare, il 3 a 1, siamo 3 a 1, magari non dovete dire, Ramsey che si, ma guardate, come va a sbattere, quindi va a farci togliere palla, grandissimo Ramsey, ecco Barclay, questo è Barclay, scusate, ma è Ramsey, non è dentro, ecco qua Rondon, dobbiamo andarla dentro, e c'è il gol, 4 a 1, ma non è stato di nuovo Ramsey, quindi nessuna kill, non c'è la kill che Ramsey non ha segnato, si è di nuovo salvata la squadra, ok ragazzi, allora, il nostro avversario ha quitato, sul 4 a 1, quindi la partita finisce qui, e Ramsey ha messo a segno, una kill, quindi nel prossimo episodio, la squadra avrà, un giocatore in meno, che poi vedrò, insomma, sceglierò, prossimamente, poi vi farò vedere la squadra, con il giocatore che ho tolto, che ragazzi, se la serie vi sta piacendo, lasciate like, commentate, condividete, vi andremo un grazie da parte mia, e da grazie di Aaron Ramsey, con la sua Death Challenge, qui da Angelone 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, Bella!